Buongiorno e bentrovati. Il lunedì 28 agosto 2017, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Oggi si ricorda, lo ricorda la Chiesa Cattolica Sant'Agostino. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dalle quattro edizioni del centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara che punta con il titolo principale sullo sport, non potrebbe essere diversamente. Ecco il titolo, Pescara Show, 13.000 tifosi in festa, anientato il Foggia 5-1, il finale. I ragazzi di Zeman danno spettacolo e entusiasmo alle stelle. Dunque avvio davvero importante della formazione bianca-azzurra. In una gara che aveva ieri allo stadio Adriatico regalato anche difficoltà per diversi tratti del match ai ragazzi di Zeman che poi sono stati bravi nella ripresa a capitalizzare le occasioni create, a portare a casa una vittoria importante per la classifica, per il morale e anche per l'entusiasmo dei tifosi. Poi vedete la foto a centro pagina, il grosso problema che ormai dura da settimane, gli incendi che stanno davvero creando grandissimi problemi nella nostra regione. Abruzzo in fiamme, dieci roghi, l'accusa del presidente della regione D'Alfonso, c'è una regia criminale. Poi vediamo le altre notizie all'interno del giornale. A Pescara si parla di politica, parla il neo-assessore Gianni Teodoro che dice una casa per tutti gli sfollati perché Teodoro avrà avuto, anzi perché le deleghe sono state già assegnate, ufficializzate dall'amministrazione comunale. La delega proprio alle politiche della casa e a Pescara ci sono problemi nella zona di Via Lago di Borgiano dopo gli sgomberi delle scorse settimane. Poi a Prato la Peligna, vedete un altro titolo che riguarda in questo caso la cronaca, pullman con 50 pescaresi in fiamme sulla A25. Fortunatamente, grazie anche alla bravura dell'autista, non ci sono stati feriti, queste persone sono state fatte scendere in tempo e poi è arrivato un altro pullman sostitutivo mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio. Siamo all'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro e caccia al piromane dei Monti, colpisce intorno a Teramo dopo il foltrone ha bruciato un bosco a Santo Stefano. Dunque, come diceva anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso, evidentemente c'è un disegno criminale dietro questi incendi che stanno distruggendo gran parte dei boschi delle zone interne della nostra regione. E poi si parla di calcio anche sull'edizione di Teramo del Centro, in questo caso di calcio in salsa biancorossa perché una perla di bacio terracino evita al Teramo la sconfitta a Portogruaro nella gara con il Mestre. 1-1 il finale, l'ex giocatore del Lumezzane che aveva punito diverse volte in passato i biancorossi, questa volta ha salvato la formazione del presidente Campitelli con un gol allo scadere. 1-1 dunque il risultato, vediamo altre notizie. Giulianova nasce un centro per riutilizzare vecchi oggetti e poi terremoto, l'addio del commissario Errani per Dercole. Giochi politici per Monsignor Giovanni Dercole. Andiamo avanti per vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, si parla di commercio, in questo caso commercio nuovo piano in arrivo, Chieti negozi in crisi. L'assessore di Biase dice teniamo conto di viabilità e parcheggi. A Lanciano, il rione Borgo, si aggiudica la sfida dei giochi storici. E poi andiamo più in basso, a Basto, acqua ai sindaci, crisi più grave del previsto. Questo l'allarme, il grido di allarme lanciato dai primi cittadini di molti centri del Vastese, perché quest'estate calda e soprattutto siccitosa sta creando grossi problemi nella nostra regione, soprattutto nelle aree interne, proprio per problemi di approvvigionamento dell'acqua. E poi sempre a Chieti, nel 500, alla festa dei tifosi neroverdi per la presentazione della squadra. E noi chiudiamo, per quanto riguarda il centro, con la prima pagina dell'edizione dell'Aquila. Trappola di fuoco per 16 volontari sul Mona, salvati da un elicottero, sulla A25, bus in fiamme, incendia la montagna. E poi vediamo altri titoli, la perdonanza celestiniana all'Aquila, Paolo Belli conquista la città dell'Aquila con il suo concerto. Poi Celano, sacra reliquia di Celestino V a Sant'Angelo, questa notizia che arriva dalla Marsica. E poi parlando di calcio, in questo caso di Coppa Italia, ci sono state ieri le gare del primo turno. L'Aquila batte il San Nicolò e passa il turno, in questo caso ovviamente il centro punta sul successo della formazione Rosso-Blu che ha abbattuto i Cugini Biancazzurri. Andiamo a vedere, per chiudere con le prime pagine, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Pesca via al fermo biologico, le imbarcazioni da oggi non scenderanno più in mare, prodotti ittici, soltanto di importazione per questo fermo biologico. E poi vediamo gli altri titoli. 800 in corteo, l'Aquila rivive oggi la perdonanza. E poi ovviamente anche sul Messaggero Grande Spazio, anche in prima pagina con corredo di foto, alla grande impresa, al Pescara, che ha travolto il Foggia per 5-1. Vedete nella foto in primo piano il grande protagonista di questa partita. Si tratta di Stefano Pettinari, autore di una tripletta, tra l'altro vi anticipo che nella seconda parte del nostro appuntamento di questa mattina parleremo in maniera dettagliata di sport. Ma lo faremo facendo parlare le immagini e i protagonisti. Vedremo il servizio su Pescara Foggia, ascolteremo i due allenatori, il maestro Zdenek Zeman e il suo allievo Giovanni Stroppa. E poi vedremo anche il servizio sul pareggio del Teramo, ieri a Portogruaro contro il Mestre. Vediamo però altri titoli dal Messaggero, prima di andare a vedere invece i giornali nazionali. Giulianova, l'ultimo saluto al super tifoso, applausi alla bara davanti alla curva, questo ieri allo stadio Rubens Fadini. Poi Teramo, scuole insicure, le mamme, i nostri figli non entreranno. E poi sul Mona, vedete in alto questo titolo, bus si incendia in autostrada, panico per 50 passeggeri. L'ultimo titolo lo vediamo in basso perché è un argomento che abbiamo seguito quasi quotidianamente negli ultimi giorni. Palazzo Sirena, giù dopo i lavori, praticamente è stata demolita quasi per intero. Proprio la struttura Palazzo Sirena che si trova nell'omonima piazza a Francavilla al mare. Allora abbiamo esaurito, almeno per il momento, le prime pagine dei quotidiani regionali. Oggi ne dico, la possiamo passare come sempre a vedere invece i titoli dei quotidiani nazionali. Iniziando dal Corriere della Sera, intesa sui migranti, centri in Libia e aiuti economici. Questo è il titolo di spalla sul quotidiano milanese. Si parla ovviamente del problema immigrati con le misure adottate dal governo. E poi si parla invece di maltempo, delle inondazioni nelle Texas, Texas sott'acqua. Vedete questa foto con un soldato che salva praticamente madre e figlio, maltempo negli Stati Uniti. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Migranti e Libia, la svolta dell'Europa. Questo è il titolo di apertura, il vertice di Parigi sulla scia della linea italiana. Merkel, sostenere Roma. Tajani dice 6 miliardi per Tripoli. Just Soli, studio sugli effetti della legge. Solo un terzo dei nuovi cittadini sarebbe di origine musulmana. Lo studio in questo caso, come vedete, mostrato oggi in prima pagina anche dal quotidiano La Repubblica. Andiamo a vedere ora il messaggero. Sgomberi, il Viminale accelera. Il ministero ordina la mappatura degli edifici occupati e sollecita i sindaci a collaborare l'utilizzo di beni confiscati alla mafia. Il sindaco Raggi chiama il ministro Minniti, ma Roma non ha un piano. Poi vedete, migranti, sì, dell'Unione Europea all'Italia. Oggi il vertice avversario, tutti adottino il codice. E poi vedete un titolo che riguarda l'altro argomento. Stretta sulle visite fiscali, nuove fasce orarie e controlli ripetuti. Da settembre tutte le verifiche all'Inps. Novità per gli statali, il nodo dei medici. Dunque ci saranno novità anche per le visite fiscali. Andiamo avanti. Il mattino di Napoli, sgomberi più profughi al sud. Questo è il titolo di centropagina del quotidiano campano. Il piano, migranti negli immobili sequestrati alle mafie. Il 70% è nel mezzogiorno. E trattandosi del giornale campano per eccellenza. Il mattino, ovviamente, il titolo in alto non può che riguardare il Napoli. Il Napoli che scaccia l'incubo Atalanta sotto per 1-0. I campani poi vincono per 3-1. Pareggio con una magia di Zienischi. Poi Martens e Ergog ribartano la partita. 3-1 il risultato finale per la formazione partenopea che resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Il fatto quotidiano, evasori, controlli dimezzati, la cura Renzi, risultati sulle indagini finanziarie da 1 miliard e 200 milioni a 178 milioni. Andiamo avanti. Passiamo dal fatto quotidiano al libero. Se gli stupratori sono immigrati vengono difesi. Censura sugli orrori di Rimini. Giornali e tv nascondono che la polizia sta cercando 4 magrebini per aver abusato di una turista. Vogliono farci credere, scrive Libero, che la società multiettinga sia perfetta e invece finirà per esplodere. E poi, attenti a quei due, questo è il titolo di spalla perché lo vedete in questa doppia foto. Sgarbi e Tremonti tornano in politica, lo scrive il quotidiano Libero. Tra l'altro, Sgarbi, lo abbiamo visto negli ultimi giorni in Abruzzo, anche polimizzare in maniera aspra con il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, per la demolizione di Palazzo Sirena. Lasciamo Libero, siamo al tempo. Tra gli sgomberati 20 giadaisti, gruppo di rifugiati attenzionati dall'antiterrorismo per radicalismo. Danni per 16 milioni in via Curtatone a Roma, dove è stato sgomberato nei giorni scorsi uno stabile. Ecco la mappa degli altri 75 stabili da liberare. E poi vedete il titolo a centropagina, che è Goduria, si parla, in questo caso, Tempo, giornale di Roma, della vittoria al novantesimo della Lazio in casa del Chievo Verona. E siamo al quotidiano la stampa di Torino, la ribellione dei professori universitari bloccati gli esami. Ecco il titolo di spalla con il taglio alto della stampa. Da oggi stoppa gli appelli nei 79 Atenei, la protesta contro il blocco dei salari. Dunque protesta dei professori universitari con l'anno accademico, o almeno comunque la ripresa dell'anno accademico dopo la pausa estiva. E poi vedete a centropagina questo reportage della stampa fra i minatori traditi da Trump. Ovviamente siamo negli Stati Uniti, sole 24 ore, fisco, scuole e pensioni, prime urgenze del rientro. Ovviamente il sole 24 ore tratta tematiche di materia economica e fiscale. E ci sono le prime urgenze del governo a cui dovrà far fronte, proprio per un autunno che ancora una volta, per usare un eufemismo, si prevede molto caldo. E non solo da un punto di vista prettamente climatico. Siamo al secolo XIX, società pubblica e sprechi senza fine tagli fantasma. Ogni comune è azionista di sette enti, acqua e rifiuti. In Liguria il caso Doppioni. E poi, Samp d'assalto conquista Firenze e sta con le grandi. E questa è una notizia che indirettamente riguarda il Pescara. Perché, lo vedete anche nella foto sommerso dagli abbracci dei compagni, il primo dei due gol che ha permesso alla formazione blucerchiata di violare l'Artemio Franchi di Firenze è stato segnato dall'ex giocatore del Pescara, Gianluca Caprari. Siamo al Gazzettino di Venezia, esce dalla discoteca con un ragazzo e denuncia. Mi ha violentato questa denuncia, questo fatto di cronaca che arriva da Jesolo. E poi il giorno nero della montagna nel nostro paese. Sette morti in Trentino, precipita una cordata, due vittime, sette feriti. Anche un tredicenne in gravi condizioni. Questa delle morti in montagna sta diventando davvero una tragedia senza fine. Ricorderete anche, purtroppo nei giorni scorsi, una vittima abruzzese di Loreto Aprutino, precipitata sul Monte Bianco. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, le case dei boss agli sfollati. Il Viminale dice utilizziamo i beni confiscati. Minniti vedrà il sindaco di Roma Raggi a Pistoia a pace fatta tra il sacerdote antirazzista e Forza Nuova. Siamo al quotidiano il secolo d'Italia. Uniti si vince. Si parla delle prossime elezioni in Sicilia, in questo caso. Si parla della candidatura che potrebbe portare all'unità del centrodestra di Nello Musumeci. Questo era l'ultimo giornale nazionale che abbiamo preso oggi in edicola. E a proposito di prime pagine, visto che oggi è lunedì e tratteremo in maniera particolare, nella seconda pagina, parte di Mattino 6, proprio lo sport con i servizi su Pescara Foggia e Mestre Terra, ma andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Milan e Napoli che risposte soffrono ma agganciano a punteggio pieno Inter e Juventus. Dunque le grandi tutte in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornati. Per quanto riguarda il Milan, Cutrone e Suso. Ancora loro stendono un bel Cagliari. I gioielli di Sarri ribaltano l'Atalanta. Pianto Reina va via. Dunque potrebbe esserci anche l'addio del portiere napoletano alla formazione campana. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. Strepitoso, questo è il titolo che riguarda in questo caso il Napoli. Napoli che ribalta l'Atalanta e continua a volare in alto. Capolavoro Belotti è già Spagna-Italia. Belotti protagonista con il Torino per la vittoria netta sul Sassuolo. e poi Milan che delizia. Cutrone più Suso, Cagliari al tappeto 2-1. Montella dice avanti così. Ma non è stata sicuramente agevole la vittoria del Milan ieri sera a San Siro con la formazione isolana. E poi fenomeno. Super Toro, Belotti favoloso. E dunque grande spazio del quotidiano torinese. proprio alle gesta dell'attaccante Granata che ha contribuito con il suo gol a abbattere la formazione emiliana steso il Sassuolo. Torino-Sassuolo 3-0. Lasciamo anche in questo caso le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali. Possiamo tornare al centro e dunque alle questioni di casa nostra. Ripartendo proprio dalla cronaca regionale e dal problema incendi nella nostra regione. Abruzzo in fiamme. Davvero problemi senza fine per la nostra regione. Una regia criminale dietro i dieci roghi. La denuncia del governatore Luciano D'Alfonso. Usano bottiglie incendiarie, gatti, gentiloni, manda, canadere anche dalla Francia. Ecco la mappa degli incendi. Ieri incendi ovviamente ne abbiamo visto anche nelle prime pagine del centro e anche del messaggero. In diverse zone della regione. In provincia di Chieti, in provincia di Pescara, in provincia di Teramo e in provincia dell'Aquila. Dunque in tutte le province. Poi in basso vediamo fuoco dal pullman al bosco. Drammatico queste le immagini, questa è la foto del bus incendiato. E poi De Sanctis invoca l'utilizzo di più uomini dell'esercito. Il bus De Sanctis del forum H2O chiede dunque più uomini per fronteggiare quella che sta diventando, e non da oggi, una vera e propria emergenza. Vedete le altre foto sugli incendi di ieri. Rabbia e preoccupazione. Appello della pezzopane. Fermiamo questi assassini. Emergenza migranti. Pagina in questo caso di cronaca nazionale. Usare i beni mafiosi. Stop a sgomberi. Shock. Noi andiamo velocemente avanti. Tragedia in Texas. Il maltempo che ha colpito nelle ultime ore gli Stati Uniti. Vedete arriva l'uragano Haraway. Cinque morti nelle città allagate. Andiamo ancora avanti. Violenza a Rimini. Caccia al branco. C'è una pista. Poi parlavamo prima dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ieri è stata una giornata nera sul fronte delle montagne. La cordata della tragedia. Due morti. Su un ghiacciaio del Trentino. Coinvolte due famiglie del Bresciano. Sette feriti. Arriviamo alle pagine della cronaca provinciale. Partiamo e ripartiamo. Anzi da Pescara. La giunta rinnovata. Teodoro una casa per tutti gli sfollati. Il neo assessore Gianni Teodoro parla del suo nuovo incarico e dell'accordo con il PD. Ora basta contrasti. Lavoriamo insieme per la città. Queste le parole del neo assessore del comune di Pescara Gianni Teodoro che dunque avrà anche questa patata bollente della delega sulle politiche della casa per cercare di risolvere il problema dei tanti sfollati della zona di Via Lago di Borgiano. Fontana d'Arte nel degrado. Uno sponsor per i lavori. Il monumento del maestro Spalletti all'ingresso del tribunale. Abbandonato da un anno. Il comune dice servono 60 mila euro ma non li abbiamo. Bando per trovare un mecenate. E siamo ancora alla pagina di Pescara del centro. Il comune condannato per il parco archeologico. Questo è il titolo di apertura di pagina 13. Dovrà pagare un risarcimento di mezzo milione alle figlie dello scultore Michetti per un esproprio a Colle del Telegrafo. Ma la richiesta era di 5 milioni di euro. Andiamo ancora avanti. Delibera sui disabili. Nessun complotto. Il presidente del Consiglio Comunale lo vedete nella foto. Pagnanelli risponde e replica ai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti. Abbiamo esaurito le pagine della cronaca di Pescara. Siamo alla pagina di Chieti dal centro. Commercio in ginocchio. Negozi in crisi. Nuovo piano di rilancio. Il comune studia interventi migliorativi. che tengono conto della viabilità e dei parcheggi. A settembre. La prima bozza. E dunque si cerca in qualche modo di rilanciare il commercio nel centro di Chieti. Da Chieti ci spostiamo nel Vastese. Siccità e diga di Chiauci. Ci vuota crisi più grave del previsto. Questo è il titolo che riguarda proprio i problemi del clima e problemi della siccità della nostra regione. I comuni di Vasto e San Salvo, leggiamo, attivano il monitoraggio della fase di allerta attraverso il COC. I sindaci non c'è ancora razionamento idrico ma bisogna fare buon uso dell'acqua. E poi in basso andiamo a Lanciano. Lo vedete? Lanciano, il borgo, si aggiudica la tensone dei quartieri. Questa manifestazione tradizionale che si tiene nella città frentana. Siamo alla pagina dell'Aquila e l'Aquila provincia dal centro. Bus con 40 pescaresi in fiamme sulla 25. Il fuoco ha incendiato la montagna a Cocullo. 16 volontari intrappolati dal rogo sul Morrone e salvati da un elicottero. Emergenza roghi dunque soprattutto in Valle Peligna. E per cercare di far fronte al fuoco viene utilizzato anche l'elicottero Ericsson 10.000 litri a viaggio. per cercare di domare questi incendi soprattutto nell'area Peligna e nella zona del Monte Morrone. E poi cambiando argomento ci spostiamo nella Marsica in particolar modo a Celano perché la sacra reliquia di Celestino V arriva in città e sarà custodita nella chiesa di Sant'Angelo dunque a Celano. In basso Porta Santa, corteo oggi la perdonanza. L'Aquila, la bolla parte alle 16 dal Comune e alle 18 al via i riti religiosi con l'indulgenza. Plenare appuntamento tardine dell'estate aquilana, quello della perdonanza celestiniana. Siamo alla pagina di Teramo, la pagina di Teramo sempre dal centro. Anche in questo caso si parla dell'emergenza incendi. Il piromene dei Monti colpisce ancora dopo il foltrone brucia Santo Stefano di Torricella ed il fuoco minaccia un centro di migranti. I sindaci, chi ha visto, denunci e dunque è caccia ai piromani che stanno distruggendo le zone interne della nostra regione a fuoco ormai da settimane. E poi a Magnanella restano focolari, sterpaglie a fuoco. Ha nerito questi gli interventi degli ultimi giorni per i vigili del fuoco. Davvero un'estate bollente. Poi in basso si parla di post terremoto dell'addio del commissario Errani. Dercole accusa e dice ha dovuto abbandonare per giochi politici Giovanni Dercole, ex arcivescovo dell'Aquila e oggi il vescovo di Ascoli Piceno, ieri in visita a San Gabriele. Ha parlato proprio dell'addio di Vasco Errani che dal 9 settembre non sarà più ufficialmente il commissario del post terremoto, dunque il commissario della ricostruzione. Abbiamo esaurito le pagine di cronaca provinciale dal centro. Vedete già alle mie spalle la prima pagina, la possiamo inquadrare, eccola qui, che riguarda lo sport perché quella di ieri è stata la giornata importante in Serie B per il Pescara. Nel posticipo, in uno dei due posticipi della prima giornata, i Biancazzurri hanno battuto per 5 a 1 il Foggia. Il Pescara c'è, pocherissimo show. Buona la prima, Pigliacelli super, Pettinari, Tris, tripletta, per l'ex giocatore della Ternana, in gol anche Benali e Mancuso. Abbattono il Foggia, gara spettacolare, non facile per il Pescara, trascinato da 13.000 tifosi. E poi il richiamo nella prima pagina dello sport del centro, anche per il Teramo. Bacio Terracino acciuffa il pari in extremis. Ieri contro il Mestre sul campo neutro di Porto Gruaro. Un gol dell'ex giocatore dell'Umezzane ha salvato il Teramo dalla sconfitta. Vediamo altri titoli della prima pagina dello sport del centro. L'Aquila, Francavilla e Bastese brindano in Coppa Italia. Questo è il titolo che riguarda le gare giocate ieri. Poi vedremo all'interno del giornale in dettaglio come sono andate queste gare che hanno visto alla fine far passare il turno alle tre formazioni, ai Rosso-Blu Aquilani, ai Giallo-Rossi e Francavillesi alla Bastese. Poi eccellenza Giulianova e Chieti cominciano bene. Spoltore K.O. a Penne. E poi promozione Tossicia resta a casa. Sconfitta a Tavolino. Fontanelle in palla. Vediamo qualche altro titolo. In basso soprattutto uno che riguarda il Moto Mondiale. Dovizioso leader della MotoGP. Vedete nella foto il sorriso del pilota italiano che su Ducati ha vinto il Gran Premio di Silverstone ed è balzato in vetta alla classifica del MotoGP. C'è anche un richiamo per quanto riguarda invece la Formula 1. Formula 1 con la vittoria a Spa di Hamilton che dunque si è aggiudicato il Gran Premio di Formula 1 disputato ieri in Belgio. A proposito di Formula 1, domenica prossima ci sarà a Monza il Gran Premio d'Italia. Allora possiamo fermarci per qualche attimo, andare in pubblicità, andare ad ascoltare anche le previsioni del tempo del nostro Luca Mennella e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Prima di parlare di sport dobbiamo andare ovviamente a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero relativamente alle cronache provinciali. vedete alle mie spalle la prima pagina che riguarda Pescara si parla del fermo pesca, il guazzetto è straniero in Abruzzo barche agli ormeggi da oggi fino all'8 ottobre il pesce in tavola arriva da fuori e i prezzi si impennano i rivenditori in difficoltà si affidano ai piccoli pescatori mentre i ristoranti fanno rifornimento dai grossisti dunque barche ferme per almeno un mese e mezzo fino all'8 di ottobre poi a Francavilla, Sirena, il comune pagò 7.000 euro per i lavori nel palazzo da demolire e poi la cronaca che arriva da Pescara sulla discesa di via del santuario siamo ai colli del capologo adriatico novantenne cade con la bici da corsa e poi vedete in basso si parla di commercio perché ci sono premi per 44 negozi storici al Teatro del Mare a Montesilvano in questo caso parliamo proprio della cittadina adriatica la consegna delle targhe a commercianti e imprenditori siamo alla pagina dell'Aquila dall'inserto del messaggero la vedete inquadrata sfilono in 800 la città ritorna ai tempi di Celestino V per donanza oggi il clou con il corteo civile quello storico imponente manifestazione da Palazzo Fibioni a Collevaggio per quella che lo dicevamo anche prima è la manifestazione regina della città dell'Aquila e poi la reliquia torna dopo il restauro sarà esposta nella Banca d'Italia e a proposito di eventi il 3 settembre all'Aquila il Jez per la rinascita lasciamo la pagina dell'Aquila del messaggero siamo a quella della Marsica e della Valle Peligna incendi altri due fronti in Valle Peligna uno colposo sulla 25 dove un bus con 50 passeggeri ospiti del programma c'è posta per te ha preso fuoco vicino Cocullo e poi l'altro apprezza l'altro incendio dove il doppio rogo è sembrato essere ancora una volta di origine dolosa rischiata l'evacuazione e dunque abbiamo visto grossi problemi per gli incendi in Abruzzo allestisce la bancarella muore ambulante questa tragedia accaduta a Roccaraso e poi Avezzano invece la politica perché Sinistra Italiana sbarca in città con Paolo Dominici dunque questa è la notizia che arriva dalla città marsicana Avezzano e Celano in lutto per l'addio al notaio Vitullo i funerali si terranno oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Stella a Castel Guidone e dunque in Molise partendo dall'ospedale di Termoli e poi ad Avezzano l'oro dimenticato donatelo al santo ha messo l'appello di Don Cleide per restaurare l'aureola spezzata dell'ex patrono in basso torniamo sul Mona niente notte bianca flash mob in mutande niente notte bianca proprio per i problemi dovuti agli incendi nella zona Peligne è stata annullata e rinviata data da destinarsi la notte bianca di Sulmona pagina di Chieti del messaggero Arbace così è rinata la Civitella la direttrice del polo museale soddisfatta della stagione guarda avanti un permesso unico per i prossimi dieci anni e poi ad Ortona commercio e turismo 2018 la rivoluzione del sindaco Leo Castiglione nella cittadina Ortonese poi spostandoci più in basso nella zona del Vastese poca acqua dal Trigno Chiauci a secco sindaci al tavolo sull'emergenza idrica e poi come sul centro anche sul messaggero c'è la notizia che riguarda Lanciano il borgo vince infatti la sfida dei quartieri questa è la notizia che arriva dalla Frentania noi ci spostiamo alla pagina di Teramo e Teramo provincia del messaggero vedete il titolo principale scuole le mamme minacciano i nostri figli non entreranno mancanza di maspe indici di sicurezza i genitori furibondi con il primo cittadino Maurizio Brucchi ragazzi a casa se non avrà effetto l'ultima manifestazione in piazza vi avevamo tra l'altro proposto servizi in merito nel nostro telegiornale poi a Giulianova sfila allo stadio la bara del super tifoso Bruno ieri c'è stato l'ultimo saluto al grande tifoso del Giulianova vedete nelle immagini la bara dinanzi alla curva dei tifosi giallorossi e sempre a Giulianova cambiando argomento il comune fissa la mappa delle aule Giulianova ancora finanza lavori nella caserma chiude un tratto di via contin infine incendi vigili del fuoco riescono a domare il rogo di campo e questa è una buona notizia dopo quanto è accaduto anche nella giornata di ieri sul fronte incendi arriviamo alla prima pagina dello sport dunque possiamo aprire ufficialmente la pagina sportiva con la prima pagina dello sport del messaggero pescara inizio da sogno vedete il titolo principale nella gara de sorio travolto 5 a 1 il foggia di stroppa grazie a benali mancuso e ad una tripletta di pettinari dunque pescara show ieri allo stadio adriatico dopo un buon inizio ritorno dei pugliesi frenati da un grande pigliacelli ma nel finale il delfino dilaga vediamo in basso pettinari un premio alla mia voglia di riscatto dice l'ex ternano che ha portato a casa il pallone come accade in questi casi quando si realizza una tripletta al novantunesimo anche brugman ha parlato risultato bugiardo è stata dura perché il foggia dobbiamo dire con grande onestà ha creato dei problemi al pescara soprattutto nella seconda parte del primo tempo e nei primi 10-15 minuti del ripresa Zeman incontentabile non è una novità dice difesa da migliorare ma il boemo incoraggio i giovanissimi erano emozionati per l'esordio l'esordio scusate in uno stadio pieno si parietto con stroppa che dice bravo pettinari ma ha avuto da noi i palloni per segnare dunque autocritica del tecnico foggiano e poi vediamo il mercato mercato ultimi giorni per il pescara a caccia di un difensore una priorità assoluta quella della formazione adriatica per la società in particolare di acquistare un difensore per rinforzare il settore arretrato in attesa di capire se Bovo resterà a pescare poi in attesa anche della miglior condizione di Ugo Campagnano andiamo a vedere anche le pagine dello sport del centro si comincia con le notizie di carattere nazionale MotoGP Silverstone gran duello italiano Dovizioso vince torna leader del mondiale Rossi terzo dietro a Vinales dopo una gara al comando fuori Marquez e poi la Formula 1 Hamilton trionfa Spa in Belgio Vettel secondo ora è a più 7 in classifica sul pilota sul suo più diretto rivale l'inglese appunto della Mercedes andiamo a vedere anche le altre notizie soprattutto il calcio di Serie A in questo caso con una pagina dedicata alle gare di ieri sera ancora Cutrone Suso il Milan va i gioielli del mercato in panchina il giovane del vivaio lo spagnolo mandano al tappeto il Cagliari Milan batte Cagliari 2 a 1 vediamo anche le altre partite in particolare quella dell'Artemio Franchi di Firenze Fiorentina Sampdoria 1 a 2 la Sampdoria fa festa a Firenze con i gol lo dicevamo prima di Gianluca Caprali e dell'inossidabile Quagliarella vediamo anche l'altra pagina dedicata alla Serie A in alto l'articolo che riguarda il Napoli che doma l'Atalanta Pepe Reina saluta i tifosi il portiere verso il Paris Saint Germain dunque vedete in lacrime Reina alla termine della gara poi Sassuolo Travolto una magia di Belotti fa decollare il Torino in basso le altre tre partite Milinkovic Savic c'è Inzaghi gode la Lazio manda picco il Chievo 2 a 1 per i Bianco Celesti il risultato finale poi la sorpresa ma neanche tanto Spalla vittoria all'ultimo respiro per Borriello gol da record per la Spalla ci ha pensato Rizzo al 49esimo minuto a regalare alla formazione emiliana la vittoria su un Udinese già in crisi due partite zero punti per la formazione friulana allenata da Gigi Del Neri infine pareggio senza grandi emozioni allo stadio di Crotone a Lezio Scida 0 a 0 fra Crotone e Verona possiamo passare alla pagina del Pescara manita al debutto vedete il titolo principale Biancazzurri avanti dopo sette minuti poi soffrono rischiando grosso nella ripresa il 2 a 0 taglia le gambe i rossoneri e il Delfino di Laga vedete il Pescara parte col botto Cinquina al Foggia Zemallandia è tornata e dunque grande entusiasmo per la vittoria del Pescara ma noi allora possiamo lasciare lo spazio alle immagini e alle emozioni ieri per tutti quanti noi allo stadio Adriatico questa vittoria importante davvero bella del Pescara sofferta ma sicuramente anche meritata per quanto fatto vedere dai Biancazzuri nell'arco dei 90 minuti al cospetto del Foggia Pescara batte Foggia 5 a 1 il servizio nella sfida che metteva di fronte il maestro e uno dei suoi allievi prediletti l'ha spuntata il settantenne tecnico del Pescara che non ha avuto pietà al cospetto dei Satanelli è tornata a Zeman Landia presto per dirlo ma se chi ben comincia a metà dell'opera allora c'è da essere ottimisti il 5 a 1 finale severo per il Foggia ma questa volta è giusto vedere il bicchiere biancazzurro tutto pieno in attesa della crescita di alcuni elementi e la chiusura di un mercato mai tanto lungo Zeman costretto a rinunciare per motivi vari a bovo fornicier Zampano a scelte quasi obbligate nelle retrovie con Pigliacelli a difesa della porta e davanti all'ex Trapanese Crescenzi per Rotta, Coda e Mazzotta centrocampo con Coulibaly Brugman e Proietti e in avanti il trio è formato da Del Sole Pettinari e Capone nel Foggia Giovanni Stroppa senza lo Iacono e Bacca squalificati in attesa a Dini Castro si affida diversi undicesimi della passata stagione in panchina gli ex Pelizzoli e Coletti si comincia gli ordini di Saia di Palermo in un pomeriggio caldo di fronte a quasi 14.000 spettatori l'avvio dei Biancazzurri con il quarto un brivido in area dei Dauni su un cross tagliato insidioso di Capone al settimo Proietti e Capone inventano e Pettinari davanti a Guarna non sbaglia per il vantaggio Biancazzurro Pescara in cattedra la squadra di Stroppa prova a reagire la gara è godibile con numerosi capovolgimenti di fronte al 32esimo Foggia pericoloso con Dei e soprattutto poi qualche istante dopo con Fedato ma con Pigliacelli che dice di no alle conclusioni foggiane nella ripresa Zeman corregge la sua squadra lasciando negli spogliatoi Coulibaly e Capone e lanciando nella mischia Palazzi e Benali stessi 11 di inizio gara per il Foggia al quinto ancora Foggia con Chirico che in area chiama al miracolo Pigliacelli si soffre sulle tribune dello stadio Adriatico visto che ancora Chirico al nono minuto e è pericolosissimo dalle parti della porta difesa da Pigliacelli i Biancazzurri appaiono in difficoltà ma la Dea Bendata si ricorda per una volta almeno del Delfino visto che al 12esimo Crescenzi vince sulla destra un contrasto e crossa centroarea per Pettinari che con una magia fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei tifosi Biancazzurri ma c'è del dolce ancora per gli abruzzesi visto che al 18esimo sulla linea Mazzotta Bruggo e Benali si materializza il Tris con la rete del giocatore libico entrato qualche minuto prima gara quasi in ghiaccio nel caldo africano dell'Adriatico dove i tifosi pescaresi fanno festa in capo la gara cala un po' di intensità anche se al 28esimo è ancora Benali a rendersi pericoloso dalla parte opposta è Mazzeo a sfiorare il gol ma poi ancora è solo Pescara con la grande rete di Mancuso al 34esimo a pochi secondi dal suo ingresso per il 4-0 e la cinquina al 36esimo con Pettinari che sigla così la sua tripletta personale portandosi il pallone a casa al 44esimo poi la rete ospite di Gerbo che serve però solo per le statistiche e l'apoteosi all'Adriatico dove dopo un anno di delusioni i tifosi Biancazzurri possono tornare finalmente a sognare e questo il servizio sul 5-1 del Pescara sul Foggia andiamo a vedere anche quello che si è detto al 91esimo nemici mai riferimento ovviamente a Zeman Stroppa Braci in sala stampa lo vedete dalla foto il boemo Pettinari mi piace in difesa c'è tanto da lavorare queste le parole del tecnico pescarese che andiamo ad ascoltare se io me l'aspettavo così poi che è una squadra che gioca bene a calcio che ha dei riferimenti che è pericolosa magari ogni tanto è un po' troppo sbilanciata quello che mi succede a me un tempo per me rimane buona squadra loro hanno tirato più di 30 volte in porta noi no che poi non l'hanno presa o l'ha preso e gli accedi c'è differenza anche in questo questa partita le ha anche avuto un po' le idee anche rispetto al futuro di questi ragazzi? no le mie idee non cambiano di nuovo discorso abbiamo cominciato con i tre giovani Cuba di Tappone e del Sole che a parte che sono giovani a parte che i due hanno fatto sempre solo primavera e poi magari davanti davanti lo stadio pieno un po' di emozione sicuramente c'era e si è visto poi lo resto ripeto noi dobbiamo migliorare tanto specialmente in fase difensiva fase difensiva dove siamo passivi aspettiamo che ci vengano addosso e di solito avversario non ci viene addosso ma trova spazi liberi beh Pettinari uno che fa tre gol non ci si può dire niente poi un giocatore che è generoso che lotta e poi magari deve rimbraziare anche un po' la difesa avversaria però non ci voglio levare i meriti perché ha lottato su tutte quali e quindi si vede che ha fame e che ha la voglia spero che ci dura va beh per me era un giocatore importante prima e poi un collaboratore importante noi nello scogliatoio ne parliamo quasi ogni giorno quello che faceva come lo faceva non è rimasto con Giovanni era un compagno Giovanni era importante per una cosa Mancini Mancini per l'arco però stavano bene insieme vediamo anche le pagelle dei giocatori del Pescara Pigliacelli 7 e mezzo Crescenzi 6 e mezzo Coda 6 per Rotta 6 Mazzotta 6 e mezzo 6 per Coulibaly 6 anche per Palazzi 6 e mezzo Proietti 6 e mezzo Brugman 6 per Del Sole 6 e mezzo Mancuso 8 e mezzo Pettinari 6 Capone 6 e mezzo Benali avete visto al fianco di Zeman il tecnico della formazione pugliese Giovanni Stropp ex allenatore del Pescara andiamo ad ascoltarlo Per quello che mi riguarda sì io parlavo di delle difficoltà eventuali di mantenere lo stesso ritmo il primo tempo specialmente siamo andati molte volte in difficoltà nelle ripartenze quindi abbiamo concesso un po' troppo potevamo essere molto più bravi a tenere il palleggio e a muovere la squadra avversaria in modo diverso però diciamo che come dicevo prima le opportunità le abbiamo create siamo arrivati davanti alla porta abbiamo tirato però è chiaro che se non fai gol diventa poi difficile poi dal secondo gol quello che mi dà fastidio ripeto è l'atteggiamento non bisogna mai abbassare la testa bisogna continuare a lavorare anche perché c'era mi sembra più di 25 minuti a disposizione quindi c'erano tutte le possibilità per ribaltare o per rimettere in sesto la partita per quello che riguarda Chiricò se facesse gol sarebbe davvero un giocatore di altra categoria però l'importante è che ci arriva che che sta oltretutto imparando a giocare con la squadra quindi quello che mi fa piacere oltre alle occasioni che si è creato anche quelle che ha fatto per che ha creato per i compagni riguardo a Petinari credo che gli abbiamo passato la palla a noi quindi è stato molto bravo queste le parole del trainer dei pugliesi vediamo ancora altri titoli che riguardano questa partita Cori Stricioni sfottò la festa e Bianca Azzurra la curva nord compatta e colorata si fanno sentire anche i 1400 foggiani prima del match uniti nel ricordo di Franco Mancini c'è stato questo commovente ricordo per l'ex portiere del Foggio ed ex preparatore dei portieri del Pescara ha funzionato il piano sicurezza nessun problema fortunatamente sul fronte dell'ordine pubblico andiamo avanti chiudiamo il capitolo pescare apriamo quello relativo al Teramo prima giornata di campionato scongiurato lo sciopero squadre regolarmente in campo con il Teramo che pesca il jolly pari con Bacio riferimento a Bacio Terracino che al 94esimo regala il pareggio al Teramo gara tirata fino all'ultimo respiro a Portogruaro i biancolossi rovinano la festa al Mestre grazie ad una rete dell'ex attaccante del Lumezzano che lo scorso anno per due volte aveva regalato amarezze alla formazione bianco-rossa Asta sorride risultato meritato ha detto il tecnico siamo riusciti a tirare fuori la grinta e a creare le occasioni giuste ma noi anche in questo caso andiamo a vedere il servizio su questo pareggio di Portogruaro fra Mestre e Teramo il servizio curato da Jacopo Forcella all'ultimo respiro quando la prima sconfitta stagionale sembrava materializzarsi con lo spettro del turno di riposo la prossima settimana il Teramo arpiona il pareggio al Mecchia di Portogruaro il lampo di Antonio Bacio Terracino doppio controllo di destro e fiondata mancina a battere Favaro e una benedizione per il diavolo che esce indenne dalla trasferta numero uno dell'anno al minuto 94 prodezza accecante in una ripresa che aveva mostrato il lato peggiore della squadra di Asta dopo una frazione iniziale con ampi sprazzi di luce il tecnico sceglie calore non Lewandowski tra i pali e avrà ragione lui il diavolo si disimpegna bene ma manca colpevolmente la stoccata che potrebbe indirizzare la partita al minuto 18 perché Foggia ha lanciato a rete a tu per tu con l'estremo difensore di casa apre troppo il compasso e l'errore dell'ex attaccante del Melfi è un peccato mortale pagato a caro prezzo al minuto 27 Chiruan crossa da destra senza ritmo Caidi e Speranza prendono in consegna spagnoli ma lasciano solo Neto Pereira libero di colpire indisturbato di testa per il vantaggio di casa una mazzata per il Teramo che si riorganizza e ricomincia a tessere la trama del suo gioco Ilari sfiora il palo al 35esimo Fratangelo a tre dall'intervallo emula proprio Foggia da posizione però più complicata mandando a lato un'altra buona occasione nel secondo tempo la squadra di Asta che inserisce Bacio Terracino per Fratangelo sembra trovare subito il bandolo della tassa con la staffilata ancora di Ilari respinta mani aperte da Favaro bravo ad alzare sopra la traversa anche l'iniziativa interessante di De Grazia fendente deviato in corner il Teramo però finisce qui Zironelli toglie Spagnoli per la sottovia e il cambio sembra giovare ai Veneti che prendono campo proprio il neo entrato centra il palo al minuto 65 brivido per la retroguardia Bianco-Rossa chiamata ben presto agli straordinari calore al 72esimo e super sulla battuta ravvicinata ancora di un sottovia scatenato deviazione provvidenziale che evita il colpo del K-Oper il Teramo che inserisce Fagioli e Graziano per Foggia e Varas ma non riesce ad uscire dalla propria metà campo sarà alla fine dei conti un merito tenere duro e rimanere in partita un atteggiamento che premerà la condotta del diavolo che barcolla però nuovamente con il missile del neo entrato Casarotto smanacciato in angolo ancora da calore migliore in campo di Bianco-Rossi in grado di centrare all'ultimo sussulto un gol che vale un pareggio di platino quello di Bacio Terracino vale infatti da solo il prezzo del biglietto e consegna un punto utilissimo al Teramo con 14 giorni davanti per continuare il lavoro intrapreso e correggere per quanto possibile gli errori di gioventù di una squadra che ha dimostrato di rimanere attaccata al match fino ad oltre il novantesimo questo dunque è il servizio su questo importante pareggio del Teramo al novantaquattresimo il Teramo pareggia l'ultimo respiro questo è il titolo del messaggero e poi di spalla le interviste del novantunesimo asta perdere sarebbe stato duro da digerire meritavamo il pari prima l'abbiamo trovato quando eravamo cotti vediamo altri titoli il primo che riguarda la MotoGP in chiave abruzzese altra gara amara per Andrea Iannone che cade a Silverstone e poi si parla di basket nella parte destra della pagina Lupusor sarà il torneo a indicarci gli obiettivi parla l'ala Moldava della Proger scusate degli Sharks Roseto in vista della prossima stagione con la formazione Bianca Azzurra unica rappresentante della seconda serie nazionale di palacanestro della nostra regione siamo alla pagina del messaggero relativa alla Coppa Italia un bel francavilla sbanca a Vezzano decide la rete di Zerbo dopo i sigilli di Miciche e Cerone dunque questo successo dei giallorossi permette proprio la formazione del tecnico Iervese di passare il turno Iervese approccio ottimo e abbiamo corso tanto lo vedete di spalla vedete le dichiarazioni del tecnico giallorosso il mister biancoverde Federico Giampaolo dobbiamo invece dice rimboccarci le maniche Bastese cala il pocherissimo battuta 5-2 l'Agnonese passata in vantaggio Fiore e Stivaletta trascinano i biancorossi sagra del gol allo stadio Aragona Colavitto soddisfatto voglia di fare bene e poi l'Aquila l'Aquila che trova il bis San Nicolò battuto gli Aquilani che avevano vinto nel primo turno 5-4 a rigore a Pineto hanno battuto anche la formazione Bianca Azzurra con questa vittoria firmata da Brenci al tredicesimo minuto dunque successo di misura per l'Aquila che approda al turno successivo di Coppa Italia vediamo altri titoli uno in particolare che riguarda il rugby i neroverdi in lutto parliamo dell'Aquila rugby si radunano oggi la prima stagione senza Mauro Zaffiri il rebus dei convocati l'ultimo saluto l'altro giorno allo stadio Tommaso Fattori per il presidente dell'Aquila rugby andiamo ancora avanti per arrivare però alla pagina di sport nazionale allora possiamo fare un passo indietro e tornare al centro per vedere proprio le pagine relative alle gare di Coppa Italia giocate ieri l'Aquila a cantiere fa suo un altro derby lo vedete questo è il titolo principale Brenci decide la sfida lo abbiamo visto prima con il San Nicolò in uno stadio semideserto 293 biglietti omaggi compresi curva in contestazione questo è il titolo che riguarda la vittoria per 1-0 dell'Aquila sul San Nicolò in basso le interviste parla Battistini tecnico aquilano potevamo fare più gol campanile col tempo cresceremo dice il trainer del San Nicolò e poi Vastese in rimonta travolge l'Agnonese con Fiore e Stivaletta buona prova dei Biancorossi in attacco difesa da registrare i molisani cedono nella seconda frazione di gioco e dunque va avanti la Vastese Colavitto guarda già alla trasferta di San Marino e dunque si parla di campionato perché domenica prossima lo ricordiamo inizierà il campionato di Serie D vediamo altri titoli che riguardano proprio la Serie D Nero Stellati Pratola si preparano per il Castelfidardo Pineto Pepe disponibile contro il Matelica dunque ovviamente anche in casa dei Peligni della formazione adriatica si pensa già alla prima giornata di campionato Nero Stellati che giocheranno con il Castelfidardo il Pineto sul difficile campo di Matelica e poi la festa del Francavilla stesso Lavezzano i giallorossi spugnano lo stadio dei Marsi e passano il turno 2-1 il risultato finale decidono le ex miciche ed il nuovo acquisto zerbo dunque vittoria del Francavilla in basso i due tecnici Federico Giampaolo e Pierluigi Iervese ci siamo disuniti ha detto il tecnico Marsicano Iervese ho visto buonissime cose e siamo alla Coppa Italia di eccellenza Chieti batte il San Salvo Giulianova ok questo è il titolo principale che riguarda le due formazioni più importanti di questo torneo Chieti San Salvo 3-2 Real Giulianova Alba Adriatica 2-1 perde invece lo spoltore per 2-1 sul campo del Penne vediamo anche gli altri risultati Sambuceto River 3-0 Montorio Amiternina 1-1 Martinsicuro Torrese 3-2 Acqua e Sapone Angolana Renato Curi 0-2 Cupello Miglianico 1-2 Paterno Capistrello 1-1 il risultato finale e noi con i risultati della Coppa Italia di eccellenza siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi il primo con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 siamo in conclusione a me non resta che ringraziare Claudio Di Giacomo per la regia voi per averci seguito e ricordarvi il prossimo appuntamento informativo con l'informazione della nostra rete come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti